protocolli regole e linee guida alla mano per garantire la sicurezza di bambini e ragazzi con l'avvio della stagione estiva scaldano i motori e si preparano alla ripartenza anche i centri estivi la sezione provinciale del centro sportivo italiano con sede a fano ha deciso a partire da quest'anno di estendere le proprie attività anche sul territorio pesarese dal prossimo 14 giugno infatti le attività del csi arriveranno alla scuola don milani nel quartiere di villa san martino quattro invece le sedi confermate a fano oltre agli educatori che saranno due per ogni gruppo composto dai cinque ai sette bambini e ad una continua sanificazione degli impianti sarà inoltre presente la figura del covid manager responsabile di controllare che tutte le norme di sicurezza pianificate vengano rispettate quest'anno presenteremo una grande novità nei nostri centri estivi a pesaro dopo anni di grandi successi nel fanese in cui abbiamo avviato diversi centri siamo arrivati ad avere fino a un migliaio di bambini iscritti proviamo a presentare questo servizio anche nel luogo pesarese la giornata nei nostri centri sarà organizzata prettamente con attività sportive ma anche ricreative giochi d'acqua e molto altro la giornata partirà alle ore 8 fino alle ore 14 con la possibilità di rimanere a pranzo